Chiamata ad emergenza alle prime luci dell'alba di mercoledì nella Valchiampo con i dici di del fuoco chiamati ad intervenire rapidamente in un'abitazione oggetto di un più che probabile incendio latente, poi con il supporto di altri colleghi, viste le proporzioni assunte dall'evento accidentale, il fumo proveniente dal tetto e l'odore acre hanno indotto i residenti a chiedere aiuto al 115, squadre di pompieri inviate sul posto alle 5.45 a Chiampo in via padre Maurizio Rosà hanno individuato subito l'incendio divampato nel sottotetto, i vigili del fuoco sono giunti da Arzignano, Vicenza e Verona con due autopompe, autobotti, autoscala, 14 operatori dopo la segnalazione hanno agito sull'origine del fuoco a lenta combustione, il sottotetto utilizzato come deposito dell'abitazione era stipato di masserizze andate tutte bruciate il team del 115 ha lavorato per circa tre ore nell'abitazione, soprattutto laboriosa è stata la fase di bonifica poco dopo le 9 di stamattina, difficile definire con precisione le cause dell'incendio, forse innescato da un corto circuito elettrico grazie a tutti